ciao a tutti bentornati nel mio canale oggi tutorial in collaborazione con il sito bbcraft andiamo a realizzare ovviamente un video di resina questo è il kit che andrò ad utilizzare l'ho preso appunto dal sito di bbcraft all'interno ci sono due due stampi grandi per vedere in dettaglio questo kit vi rimando ovviamente all'unboxing se ve lo siete persi ve lo linko qui nella i di informazione in modo che potete vedere in dettaglio tutti le varie cosine che sono presenti all'interno di questo kit questo è lo stampo che andrò a realizzare oggi è una sorta di contenitore per abbellire ovviamente le nostre case io andrò ad utilizzarlo come contenitore per il purpurì ma volendo se avete se avete acquistato della resina adatta per il contatto con gli alimenti potete anche utilizzarlo come un porta caramelle o anche un porta confetti io ho soltanto la resina quella lì della resin pro normale non adatta appunto per gli alimenti e quindi andrò ad inserire il purpurì all'interno e lo utilizzerò appunto come elemento decorativo per la mia casa su una mensolina e poi pensavo anche di utilizzare qui nella parte del coperchio dove c'è appunto questa sfera di inserire all'interno dei fiori secchi e poi per la parte questa qui in basso di andare ad inserire anche della foglia oro infatti ho preso anche questo kit dal sito di bibicraft per la foglia oro che è un contenitore abbastanza grande in modo che sto a posto per un bel po di tempo con la foglia oro quindi me lo immagino davvero molto molto elegante molto carino con po trasparente con la foglia oro e poi qualche fiorellino secco iniziamo a miscelare la resina come dicevo prima io utilizzo quella lì della resin pro dove il rapporto è di 10 a 6 10 di a e 6 di b e credo che andrò a miscelare all'incirca 30 grammi di a e 18 di b in modo da vedere effettivamente quanta resina va all'interno di questo contenitore quindi iniziamo e ovviamente vado a girare lentamente per cinque minuti rieccomi la resina è pronta adesso vado ad aggiungere un po di foglia oro bene e aggiungo anche un po di questo che è un pigmento per artisti quello bianco argentato giusto un pizzico me lo prendo con questo in questa parte qui della punta del coperchio volevo inserire appunto qualche fiorellino secco inizialmente volevo inserire questo qui sempre se mette a fuoco un attimino ve lo riprendo eccolo qua volevo inserire questo ma è un po troppo grande e quindi rischierei di sciuparlo e quindi pensavo questo è piccolissimo al limite posso inserire questo questo scricciolo ok poi qualche fiorellino bianco al limite metto proprio queste diciamo queste piccole piccole foglioline svolazzanti anche queste qui bianche aspettate però tolgo questa parte sotto aspettate 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 Grazie a tutti. 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 Ed eccola qua. Davvero molto molto bella. Tra l'altro questo pigmento rende tutto favoloso. È uno spettacolo. Sembra tipo una sorta di nuvoletta con qualche sprazzo dorato. Vediamo anche la parte del coperchio com'è. Ok. Ce la posso fare. Tra l'altro un fiorellino secco è capitato anche qui. Aspettate. Provo a toglierlo. Ok. Oddio che carino. Che carino. Non so se si nota. I fiorellini secchi. Davvero molto molto bello questa parte su in alto. Guardate che carino. Poi il coperchio va in questo modo. Vedete con i dentini in modo che si blocca. Ed è spettacolare questa scatolina. L'adoro. Mi piace anche il fatto che la foglia oro sia andata tutta quanta qui. E che qui ci sono appunto qualche pezzettino. E poi c'è questo elemento di continuità nella parte bassa. E poi ovviamente qui in alto soltanto con le foglioline. Queste qui con i fiorellini secchi. Davvero molto molto carino. Che poi tra l'altro ci sono sia le foglioline. Ecco qui quella fogliolina lilla. Poi c'è quella fucsia. Qui nel lato ci sono quelle lì bianche. Ed è pazzesca. Mi piace davvero l'effetto che si è creato. Davvero molto molto bella. Sono davvero soddisfatta del risultato. Voi cosa ne pensate di questo mio esperimento con la resina epossidica? Io non vedo l'ora di mettere all'interno il purpurri. Ovviamente sarà fucsia. In modo che richiama anche un po' il fiore secco qui in alto. E niente. Questo sarà esposto ovviamente nella mia casina. Niente ragazzi. Questo era il video in collaborazione con BB Craft. Spero che sia stato di vostro credimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto. Un bacione. E alla prossima. Con nuovi esperimenti. Nuovi tutorial. Nuovi video. Ciao! 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 Grazie a tutti.